salve a tutti e bentornati nel mio canale calo di testosterone e disfunzione erettile e spesso una coppiata che troviamo nei nostri pazienti il calo di testosterone sappiamo benissimo si associa un calo del desiderio un calo della libido e quindi di riflesso a una ridotta elezione ma non per forza e non solamente vi è questo tipo di collegamento e l'articolo che ho scritto tempo fa su tag medicina ha proprio questo titolo il titolo è bassi livelli di testosterone possono essere la causa della disfunzione erettile per quale motivo su questo articolo che riporto e gli studiosi hanno in effetti individuato la possibilità che il calo di testosterone agisca direttamente a livello dei corpi cavernosi quindi non un riflesso di un calo di desiderio ma proprio un meccanismo intrinseco che riduce la vasodilatazione dei corpi cavernosi sappiamo che il protagonista della dilatazione quindi dell'erezione l'ossido nitrico l'ossido nitrico in grado di indurre e mantenere l'erezione questo è anche il principio con cui agiscono i farmaci gli inibitori della 5 fosfo di esterasi ossia una molecola che impedisce all'enzima che distrugge l'ossido nitrico ne impedisce quindi l'attivazione quindi impedisce la distruzione dell'ossido nitrico che continua quindi la sua azione a livello dei corpi cavernosi e mantenendo l'erezione l'assenza o la mancanza di testosterone come scritto in questo articolo crea un disaccoppiamento a livello endoteliale della ossido nitrico sintetasi ossia quell'enzima che è in grado di indurre favorire la produzione di ossido nitrico ecco quindi che un calo di testosterone può ripercuotesi in maniera diretta sui corpi cavernosi ed ecco forse perché è mia abitudine quando ove possibile e consentito l'accoppiamento dei farmaci che aiutano l'erezione quindi gli inibitori della fosfo 5 di esterasi e il testosterone possono avere un'azione sinergica e migliorare la risposta erettile nei corpi cavernosi con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata